Il Presidente l'ho visto davvero catturato da questa mostra che è stupenda, bellissima, allestita in modo meraviglioso e noi siamo onorati e orgogliosi che il Presidente Mattarella ancora una volta abbia scelto Napoli in questo momento così importante della città, quindi una bella visita di Stato col Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera, credo che sia un bel segnale autorevole, con grande rispetto della città e di quello che si sta mettendo in campo ogni giorno con la passione, l'entusiasmo e la competenza della stragrande maggioranza dei napoletani. Sindaco, siete riusciti a parlare anche un po' di quello che è successo in città del giorno di scuola? Neanche col Presidente Fico prima dell'arrivo di Mattarella? No, il Presidente Fico abbia fatto una chiacchiera così, ma avremo modo di rivederci.